Si parla di un 30% di presenze in più all'Aquila per questa stagione estiva. Si tratta però di turismo non stanziale, ma al solito mordi e fuggi. Gli albergatori anche quest'anno non sono soddisfatti al 100%, anche se la stagione sembra essere andata lievemente meglio rispetto allo scorso anno. Progressivamente dal terremoto ad oggi c'è stato un miglioramento, però rispetto ad agosto non abbiamo avuto tante presenze e rispetto alla perdonanza che doveva essere un evento che porta persone non abbiamo avuto sicuramente il pieno che speravamo. E rispetto allo scorso anno? Meno, agosto meno, in generale meno. Il turismo è poco, abbiamo più clienti business che turisti, quindi bisognerebbe fare proprio qualcosa per aumentare il turismo. Per quanto riguarda invece la presenza di turisti stranieri? Turisti stranieri sicuramente aumentano anno per anno, soprattutto sono di passaggio però all'Aquila per visitare poi il Gran Sasso e le zone limitrofe, quindi ancora l'Aquila non attrae bene il turismo straniero. Soprattutto sono tedeschi, però francesi, svizzeri, austriaci, veramente poco. Soprattutto. Soprattutto. Soprattutto.